Questa ottava ancora un Anziani sul miglio, 8 in prima, 7 in seconda fila, questa invece è una corsa molto aperta, Sicilia Bio molto seguita, seguita anche Sauvage Rock con la Villani, Soprano M, insomma c'è da trovare il cavallino giusto, mezzo meccanico in movimento, sono in 15, 8 in prima, 7 in seconda, allineamento che va a completarsi. Arretrati il 6 e il 7, galoppa il 3, Soprano, e la spinge la macchina dal centro, vedete? E dovrebbe andare facile al comando, il numero 5 di rilancio Dar, che parte molto forte e scende lungo i birilli. 13 e 4 in lancio con il buon Panico, leader su Sauvage Rock al completamento, parte alla grande francese con Sébastien Dinot, che parcheggia in terza posizione. Si ha preso un po' la via a Panico questo rilancio Dar, 29, ora può graduare leggermente, Sicilia Bio per linee esterne, cerca la risalita pedinata da stile ok, e per il momento fa un po' di selezione il leader, 43 e 2 da 1 e 12, non ammette interferenza il rilancio Dar e mantiene il comando ad andatura sostenuta. Si va al completamento del mezzo miglio, si borbotta in 58 e 7, 15 e mezzo, ora si viaggia da 1 e 13 e mezzo, e per il momento almeno a 700 metri untouchable il leader, poi Sauvage Rock e Sébastien Dinot. chilometro spumeggiante per la categoria 13 e 6, 14 e 9 di frazione, Montino di Buonalena il leader e cavalli che affrontano la curva finale, ma ci vogliono ancora 400 metri alla conclusione, con Sauvage che tenta di ricucire il gap e anche Sebastian, 15 e 1 fanno 1, 28 e 6, tre quarti di miglio, si avvicinano i due, si avvicina anche stile ok, ma è la Villani che viene via con Sauvage, vuol fare tutto lei oggi, vuol fare tutto lei la Villani, sta già passando la Villani, in seguito da Sebastian, Sauvage Rock, Sebastian si giocano la vittoria, e insiste francese, francese insiste, è sul palo, Sebastian Di Si, batte l'avversario. Rivediamolo quest'arrivo però eh, rivediamolo quest'arrivo, due minuti tondo, 1 e 15, rivediamolo un attimo quest'arrivo eh, eccolo qua, vedete, Sauvage, si difende, arriva Sebastian, vediamo un po' sul palo, vediamo un po' Sebastian Dinot, vedete, guardiamolo bene, guardiamolo bene, non ci dovrebbe essere problemi, non lo so, è tutto da Agnano, linea allo studio.